Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Partner Connect, una serie di brevi video in cui noi di Quantica presentiamo il nostro offering e i nostri partner tecnologici attraverso chiacchierate informali direttamente col vendor. Oggi sono contento di avere con noi Roberto Bentivoglio di Radical Beat, una delle partnership più recenti che abbiamo fatto in Quantica. Grazie Roberto per aver accettato il nostro invito e ti passerei direttamente la parola così ti presenti e ci dici chi era Radical Beat e qual è il posizionamento che avete sul mercato. Ciao a tutti, grazie mille Andrea, è un piacere essere qui e fare questa chiacchierata con voi. Radical Beat è un'azienda che è nata dal 2015 al 2016 ed è sempre stata specializzata nel mettere, nel legare lo streaming come tecnologia all'intelligenza artificiale. Abbiamo avuto, diciamo, varie fare nella nostra vita aziendale, abbiamo prodotto varie, diciamo, abbiamo eseguito vari prodotti nel tempo e fino ad arrivare poi a quello che vedete anche nel mio background che si chiama RNA, che è una piattaforma end-to-end per la gestione dei dati in streaming, dove è possibile anche mettere, diciamo, in produzione, poi penso parleremo più profondamente durante questo tempo, mettere in produzione un'intelligenza artificiale. Sì, perfetto. Se non anticipiamo troppo, poi andiamo più nel dettaglio nel resto della chiacchierata. Quindi sicuramente siete posizionati su uno dei tre principali che vediamo nel mercato del dato. Uno è la migrazione dei workload analitici verso, non solo dei workload analitici, di tutti i workload, ma principalmente dei workload analitici verso il cloud, si sposano bene con il modello di scalabilità elastica e fatturazione a consumo del cloud. E l'altro è un cambio di paradigma nel mondo dell'integrazione dei dati, quindi da un modello basato sull'integrazione batch a un modello basato sull'integrazione più in real time. Poi voi unite questo anche con la parte di machine learning e intelligenza artificiale, quindi sicuramente è un aspetto, un trend nel mondo della gestione del dato e dell'utilizzo del dato che vediamo molto molto forte sul mercato. Ovviamente è già da anni che si è avviato questo trend verso una spinta sul real time. Noi siamo tradizionalmente come Quantica partner di Confluent, abbiamo realizzato molteplici progetti in ambito real time. Adesso la domanda si sta spostando un po' dalla realizzazione del progetto in real time a rendere l'intera infrastruttura il più possibile scalabile, governata, facile da manutenere, devolvere. Quindi un pochettino tutto quell'ecosistema di tool e processi che stanno al contorno della semplice piattaforma di real time. Si parla molto di data ops in questo momento. Magari Roberto ci dici la piattaforma, un pochettino avevi già iniziato a parlarne, andiamo un po' più nel dettaglio, ci dici quali sono le componenti e come RNA di fatto supporta tutti questi processi di data ops che portano dall'ideazione del progetto al progetto in produzione e poi tutta la parte di maintenance e devolutive. Certo, allora diciamo che RNA è stata una piattaforma pensata fin dall'inizio per gestire i dati in streaming in modalità self service. Cosa vuol dire? In pratica noi per esperienze che abbiamo avuto in passato, molto affini poi a quelle che a Quantica, abbiamo lavorato spesso su progetti che coinvolgevano la gestione di real time, di eventi real time e hanno una problematica comune che riguarda la complessità. Da certi punti di vista poi alcune volte è un po' difficile gestire soprattutto gli stati, i sistemi sembrano un po' delle black box, quindi il nostro punto di vista è sempre stato quello di facilitare sia diciamo l'implementazione di progetti che riguardano lo streaming in real time, ma soprattutto anche la possibilità di avere un po' più di visione su quello che sta succedendo nei tuoi applicativi e l'ultimo passo poi era anche quello di forzare l'utilizzo di determinati partner che fossero un pochino più vicino al mondo dello streaming che è un po' lo scoglio che ci si trova un po' da affrontare quando si passa un po' da una, diciamo, una mentalità implementativa rispetto ai progetti dal mondo batch rispetto allo streaming, sono due mondi totalmente diversi e ci vogliono anche approcci, tecnologie e pattern diversi. Una di queste, diciamo, partner architetturali che ci ha portato un po' al sviluppo di RNA è stata sicuramente la TAP Architecture quindi non pensare più ai progetti, soprattutto ai progetti big data, divisi in quelli che vengono chiamati mediamente come speed layer e poi, diciamo, il batch layer, insomma, il layer quello più orientato al mondo ETL canonico ma tenere un unico layer di dati gestendoli in maniera incrementale, un po' come spiegare la TAP Architecture senza addentrarci un po' troppo magari in tecnicismi e l'idea della piattaforma di RNA è rimasta comunque questa fin dal giorno della sua creazione quindi si hanno le varie fasi di gestione del dato, quindi si passa dalla data integration c'è la parte di processing e preparation la possibilità di applicare un materiale di legge artificiale una parte di nuovo di publishing del dato, quindi un'integrazione verso il mondo esterno e poi una parte finale che riguarda la possibilità di creare modalità self-service delle dashboard il nostro comunque core rimane sempre la parte di processing e legare appunto la possibilità di creare queste pipeline di computazione del dato in modalità visuale utilizzando operatori tag and drop senza necessità di scrivere codice anche se è possibile farlo e come tecnologie ci sono sempre basati end to end, come scelta di disegno su Kafka quindi nativamente la piattaforma gira completamente prendendosi su Kafka quindi sia dalla parte di ingestion e di publishing che utilizzano Kafka Connect per connettersi, per prendere dati, fare la parte di source e la parte di sync con il mondo esterno sia la parte ovviamente di broker di messaggistica e come direttamente su Kafka e poi con gli anni oltre ad utilizzare Flink e Spark Streaming come engine ci siamo anche affidati a Kafka Streams per la parte di processing che è rimasto poi diciamo un compagno ideale col fatto di girare su Kubernetes perché Kafka Streams è diciamo, essendo una libreria e un cluster a sé stante è molto più vicino alla possibilità di scalare che offre il mondo di Kubernetes ottimo, ottimo, quindi sintetizzando voi non siete l'ennesima distribuzione di Kafka siete un tool che si pone on top di Kafka e mi permette in modo anche visuale lo code di andare a implementare in modalità end to end delle pipeline di trasformazione e di integrazione del dato in realtà diciamo per dirla in modo brutto ma per farci capire siete un po' quello che talent e informatica sono per il mondo, beh sono, sono stati per il mondo batch e voi posizionate sul mondo della realtà quindi un'integrazione tramite uno strumento visuale che governa la costruzione delle pipeline fornendo tutto quello che serve al contorno per facilitare la vita degli sviluppatori e poi per ridurre anche i costi di implementazione di queste pipeline ecco sono curioso dal vostro osservatorio, dalla vostra esperienza che avete su questo mercato quali sono gli use case più frequenti? hai parlato sicuramente di integrazione real time, cap architecture ma in generale i mercati o gli use case che vedete più frequentemente di maggior interesse in questo momento quali sono? sicuramente, vabbè, cominciavi tu tutto il mondo del data integration è un mondo importante per la parte di streaming perché permette di avere l'integrazione continua dei dati, quindi non più aspettare un giorno o a volte n giorni o comunque qualche ora ma l'integrazione continua e porta molto più possibilità al business in generale dove c'è tantissimo movimento parlando anche poi dell'Italia c'è molto movimento sul settore che riguarda l'IoT e in particolare dell'Industry 4.0 c'è tantissimo movimento perché oltre alla necessità di portarsi diciamo, stiamo parlando di questo mondo però tante aziende anche molto grosse non hanno ancora fatto questo passaggio di portarsi i dati al di fuori dei macchinari degli impianti industriali per poi fare dei ragionamenti e in questo mondo legare l'intelligenza artificiale a real time è sicuramente una carta vincente perché permette di avere n sviluppi, quindi possibilità di avere manutenzione predittiva dei macchinari detenzione delle anomalie in maniera diciamo molto rapida rispetto poi a trovarsi dei problemi sulle linee di produzione sono vantaggi abbastanza chiari penso per tutti e poi ci sono i soliti diciamo settori che riguardano ad esempio il mondo del finance finance comunque ha sicuramente molte applicazioni per quanto riguarda lo streaming a real time ma diciamo nell'ultimo anno abbiamo visto un grande sviluppo purtroppo anche per quello che è capitato insomma al mondo per le questioni che riguardano il covid c'è stato molto sviluppo per quanto riguarda il mondo del retail quindi un sviluppo per la customer intelligence e per cercare di anche di attraverso la tecnologia di legare un po' di più gli utenti ai brand quindi sfruttando spazi virtuali e non solamente spazi fisici che erano irraggiungibili e questo ha portato ad avere analisi sul comportamento degli utenti per cercare di rendere i prodotti anche più vicini a loro alle loro necessità quindi c'è stata una grande evoluzione ovviamente in un mondo comunque molto frenetico come quello dell'online, il retail la possibilità di avere il vesting processing l'intelligenza artificiale è sicuramente una carta vincente Certo, noi siamo molto forti sul mondo del retail e il retail ovviamente ha avuto un'accelerazione sulla parte digita nel periodo covid però il trend che vanno verso un concetto di omnicanalità quindi integrazione tra il fisico e il digitale la multivigità dei touch point ha sempre richiesto comunque un passaggio da un'integrazione batch a un'integrazione real time perché un conto è la cross canalità dove posso anche permettere solo un'integrazione batch tra i vari touch point ma se poi voglio essere omnicanale quindi non interrompere il customer journey quando passa da un touch point a un altro dal negozio all'e-commerce devo integrare tutte queste applicazioni in modalità real time quello che aggiungi tu sicuramente è un elemento estremamente interessante quindi non solo avere un'integrazione tra i vari touch point in una logica omnicanale per garantire l'integrazione e l'esperienza utente uniforme a pagante ma anche per prendere degli insight in real time quindi non solo per assicurarmi che quando faccio il pagamento in cassa i punti sulla mia loyalty sono aggiornati anche sull'e-commerce ma anche per intervenire all'interno dello spazio di una transazione per esempio per fare del recommendation piuttosto che per personalizzare l'esperienza utente questo diventa molto importante e qui mi ricongiungo a un concetto anche che sta diventando sta prendendo piede nel mondo del real time che è quello di continuous intelligence quindi chiudere il ciclo non solo portare il dato dal sistema operazionale ad altri sistemi operazionali o dal sistema operazionale al sistema analitico ma passare anche dall'insight che riesco a prendere in real time sul sistema analitico di nuovo al sistema operazionale per intraprendere poi su quell'insight delle azioni dirette all'interno però non il giorno dopo non ti mando una mail il giorno dopo per farti una promozione perché il giorno prima avevi visto qualcosa sul sito ma te la mando in real time mentre sei ancora sul sito questo concetto di continuous intelligence voi lo vedete? Vedete un trend in questo senso? Si parla molto di continuous intelligence? Richiede un livello di maturità già sul real time elevato? O si può partire anche già implementandolo con i primi use case? Lo vedete sul mercato questo trend? Hai preso proprio un punto veramente interessante per noi come azienda perché diciamo nel nostro sviluppo la continuous intelligence è centrale ci sono varie definizioni di continuous intelligence Garten ha dato penso la definizione principale che poi troviamo anche online però per noi la continuous intelligence è proprio mettere insieme lo streaming e l'intelligenza artificiale e metterlo tutto questo però in maniera contestuale rispetto a quello che sta succedendo quindi come dicevi tu magari i sistemi, gli operazionali o i dati che riguardano anche tutti gli stakeholder quindi quello che stanno facendo i nostri clienti i nostri piegati in azienda tutti gli stakeholder che abbiamo intorno a questo sistema che è una sorta di sistema nervoso pensando poi alla biologia al corpo umano che è in grado di ricevere un sistema nervoso digitale ovviamente che affianca poi all'intelligenza collettiva che poi è quella umana che viene data dalle nostre persone che ad esempio sono i nostri clienti i nostri dipendenti interno delle aziende abbiamo questo sistema nervoso digitale che è in grado di reagire cambiamenti esterni a quello che viene dato come input in real time e avendo una sua intelligenza e ridando un ciclo di feedback esterno ricevendo anche un feedback delle persone dicendo guarda mi hai dato un buon suggerimento un cattivo suggerimento e questo porta sicuramente a sistemi che sono in grado anche di autoapprendere questo è una delle cose che vedremo di più nei prossimi anni sicuramente non solo nel mondo degli analytics ma proprio anche nel mondo applicativo perché è qualcosa che è un po' più in là ed è qualcosa che sta succedendo rispondendo poi alla tua domanda vediamo che c'è sempre più interesse ad unire i mondi è un po' quello che dicevi prima rispetto a quello che è già successo per avere più l'ambicione insomma negli anni quindi integrare real time vedere le notifiche che arrivano in real time quando hai fatto un'operazione o vedere i dati allineati tra più sistemi che è comunque qualcosa che un utente ormai si aspetta c'è stato un passaggio ulteriore dove anche non si parlava solamente di spesso saranno percorsi molto IT sono percorsi che stanno diventando molto business cioè il lato business dell'azienda pensando soprattutto magari al marketing vogliono sapere cosa stanno facendo i miei clienti ora cosa stanno pensando ora come posso soddisfare questa necessità e questa necessità è andata a buon fine cioè sto avendo un buon feedback rispetto a quello che ho fatto quindi è tutto un real time e secondo noi questi concetti fanno proprio un'interazione continua ricevere feedback e avere comunque un'intelligenza digitale che permetta quindi artificiale digitale come a definire che ci venga ad affiancare costantemente ci aiuti nel raggiungere lo scopo che poi mediamente poi spesso sono le conversioni rispetto alla clientela certo in generale diciamo è chiudere un ciclo quindi passare avere la possibilità di avere degli insight in real time quindi non più differiti su dati storici ma non solo anche poter utilizzare sempre con un ciclo di feedback molto corto questi insight per poi passare a delle azioni che possono essere delle azioni decise a volte dalle persone del business che guardano le dashboard in real time e prendono decisioni ma sempre molto più spesso sono machine to machine quindi è il sistema di analytics tramite modelli di machine learning che va a comunicare degli insight presi dai dati che arrivano in streaming direttamente ai sistemi operazionali che possono poi far scatenare delle azioni l'esempio più tipico se rimaniamo nel mondo del retail è la parte di raccomandazione in real time o di personalizzazione o di fraud detection tutte cose che sicuramente migliorano l'esperienza utente ma anche riducono i costi pensate una froda intercettata nello spazio di una transazione piuttosto una froda di cui mi accorgo il giorno dopo quando faccio girare il mio algoritmo sul data lake a molti minor costi di back office per la gestione e proprio di questo del passaggio dall'inside all'azione sfruttando tecnologie di real time per chiudere un pochettino tutto il cerchio dell'intelligence parleremo in un webinar che abbiamo organizzato congiunto quantica e radical bit nel mese di giugno dovreste trovare il link insieme al video sotto nei commenti del video registratevi se volete sapere di più sull'offering di quantica su come funziona radical bit e come lavoriamo insieme appunto per implementare soluzioni di real time integration real time analytics e più in generale di continuous intelligence quindi con questo direi che è tutto io ti ringrazio ancora Roberto per la disponibilità e per esserti prestato alle mie domande è stato sicuramente molto interessante ci vediamo al prossimo episodio di Partner Connect nel frattempo registratevi al webinar grazie a tutti ciao buona giornata ciao grazie ciao Andrea grazie grazie a tutti grazie a tutti